E' una volta in alto. Sì, c'è la partezza di Hansg. Qua sulla... Con la parte di Boni. 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 E quindi sta attento, va veloce poi ci ha ridotto qua. Grazie a Brescia! Piacione. Non è bene, è bene. 30 secondi, quindi velocissimo il passaggio del porta colori dell'US Milano quindi Stefano Berlusa Grande ha il passaggio con Michele Bellucchi e Diassecchievo insieme a loro e dentro di qua abbiamo Daniele Pagani con il petrolale numero 353 presenti in grande porte abbiamo gli amici del Team 3S gli amici di Carabagnani gli amici dell'Atletica Casorate la Carta Atletica l'Atletica Gallarapise abbiamo anche l'IBS Ballar Madeira Ballar Madeira scusate un pochissimo lungo tantissime veramente tante 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 società 32 minuti abbondantemente quindi veramente veramente bello giocare io faccio un grande applauso ecco qua un grande applauso per Stefano Berlusa Grande vincitore per aver guardato proprio negli ultimi metri 30 quali della Atletica Parizzola che nuova l'inizio 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 è un grande applauso l'inizio è un grande applauso l'ultimo metri è un grande applauso Andrècio Chiero con venga 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 è un grande applauso è un grande applauso è un grande applauso